La disoccupazione e il progressivo abbandono delle terre sono fenomeni con cui anche in Toscana ormai si deve fare i conti. Questo ha spinto la Caritas di Lucca, sostenuta anche dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, a far nascere una cooperativa agricola che ha offerto una nuova possibilità di vita a un gruppo di giovani italiani che avevano perso il lavoro e ad alcuni immigrati che passo dopo passo si sono perfettamente inseriti in questa nuova realtà.